Per quanto riguarda le festate, fino adesso la festa è andata molto bene, siamo contenti, gira molta gente e speriamo di continuare così. Quest'anno abbiamo scelto il tema Technicolor perché pensavamo che fosse un tema che porta molta gente. Sono molto orgoglioso di far parte di questa associazione perché secondo me è importante ormai è diventata quasi come una famiglia. Faccio un invito a tutti i giovani del paese a entrare a far parte di questa associazione perché siamo già in tanti ma serve sempre una mano e siamo orgogliosi dell'associazione e vogliamo anche aumentare il volume di persone. Il Lumen è un'installazione che si basa sui concetti d'arte psichedelica e permette di guardare i vari colori nella loro massima saturazione messi in contrasto fra di loro. Infatti io ho scelto gli abbinamenti tra colori complementari proprio perché l'occhio si è colpito al massimo dal contrasto simultaneo. Inoltre abbiamo ricavato queste aperture per permettere al visitatore di vedere tutti i colori contemporaneamente e scoprire le varie combinazioni che si fanno. È un messaggio basato non su qualcosa di tangibile, oggetti, musiche conosciute ma è qualcosa di molto più profondo a livello emozionale dove è soltanto il colore a parlare accompagnato da dei suoni abbinati alle frequenze Hertz dai colori. È qualcosa di più scientifico, di più ricercato che richiede una certa preparazione. Infatti all'esterno, al buio completo per tre minuti, prepariamo il visitatore ad espandere la percezione con una voce guida che fa visualizzare qualcosa di molto semplice in modo che poi l'occhio sia completamente coinvolto in questa prestazione che dura 4 minuti e 30 all'interno della struttura dove ci si può muovere liberamente per apprezzare i colori che ci sono e vedersi anche, come vedete me, tinti nelle varie combinazioni che si fanno. Abbiamo queste luci abbastanza sofisticate che permettono anche di invertire le tinte, di cambiare le combinazioni cromatiche all'interno di questa macchina, se vogliamo chiamarla così. Ma le fessate iniziamo già per il tema, dobbiamo già averlo entro marzo, bisogna aver già deciso il tema e in base a quello ci si muove su tutto, quindi bisogna scegliere, i primi da sentire sono i gruppi perché essendo luglio bisogna avere almeno un po' di mesi di preavviso se vuoi avere i gruppi belli e poi si sceglie tutto, le scenografie, il tema dei vari punti di ristoro, gli eventi collaterali, esibizioni, dimostrazioni, quindi ognuno ha il proprio ruolo e ognuno si occupa di un determinato ambito in modo da arrivare a luglio che siamo tutti, è tutto prenotato e tutto certo. Sì, è un lavoro abbastanza lungo e chiede tanto tempo libero, io per esempio sono studentessa universitaria quindi ho dovuto un po' destreggiarmi tra lezioni, esami e le fessate, però sì, è un lavoro lungo e ci vuole tanto impegno, però le soddisfazioni sono enormi perché quando vedi, quando finisce un concerto e vedi che la gente è piaciuto e i musicisti sono contenti e lo stesso vale per gli altri, tutti gli altri punti quindi ristoro eccetera, è proprio, ti senti di aver fatto qualcosa di bello e che, sì, è che la gente è contenta di essere di Leffe, è contenta di essere, di avere quattro giorni di festa che rallegrano proprio il paese.